Posso farti una domanda? Certo. Allora, nel comitato fiato vorrei capire un attimino qual è la mission di questo comitato, cioè è un comitato che ha come scopo fare lucro o è una onlus? Per adesso, o meno, non è che per adesso. Grazie dell'assist, così racconto il contesto. Allora, siamo al 11 settembre 2020, quindi data assolutamente un po' tricky, cioè l'11 settembre, 2020 covid, quindi in piena pandemia e così via. Andiamo a mangiare, così ci conosciamo. Io, sai, ho dato vita al circolo di innovazione in cui aggregavo persone contenute sui temi di cultura e innovazione. Mi sono divertito a fare un po' di tempo e così via. Anch'io ho la passione per la finanza e, come sai, ho avuto il culo pazzesco, come ho imparato a dire da Oscar Farinetti, vai a partecipare alla prima assemblea delle azioniste XOL in cui ha dato vita, fusione IFI-IFI e poi da quell'anno si vede l'assemblea perfetta. Però io ho un mio stile, cioè, nel tempo, all'inizio andavo un po' in conflitto con alcune figure, tipo un consulente di mia madre o altra gente così via. Certo. E poi dopo ho iniziato a capire, a fare dei corsi, ma comunque a capire che la mia prospettiva del mercato era molto diversa dalla prospettiva di un'altra persona e quest'altra persona aveva una prospettiva molto diversa da un'altra persona ancora e quindi questa cosa mi affascinava. Ho iniziato a confrontarmi con alcune persone e a farlo in maniera un pochino più strutturata, partendo da Aaron e Masco, questo nostro amico, con cui mi hanno detto, vabbè, ascolta, noi intanto mettiamo insieme un po' di roba, mettiamo insieme gente che si diverte, che c'ha voglia di divertirsi, quindi in totale uno stress e relax, che ha l'approccio del mamma e che cazzo me ne frega, cioè della serie. Non so, adesso soprattutto Max ultimamente ci condivide, ho guadagnato, boom, percentuali, non dice mai le cifre. In quel momento è euforia, entusiasmo, però anche solitudine, perché c'è con chi la condivide, che lo comprenda, cioè con i miei amici, con i miei parenti, sì lo dici, però sembri un po' un pazzo a volte, oppure perché non capisci la dinamica. Niente, mi sono girato e ho detto, cavolo, ma io conosco Tizio, Caio, Semprogno, Pippo, Paperino e Pluto, che lavorano in banca, assicurazioni, destra e sinistra, fondi di investimento. Iniziamo a metterli un attimo insieme, avvicinarli, e questo tipo mi sembrava una di quelle cose, non so se hai visto il film Loro, quello su Silvio Berlusconi. No, no. Ok, finché io ho adorato Sorrentino, la grande bellezza, poi Loro, quindi su quel livello là. A un certo punto ci sono dei personaggi un po' misteriosi, il cui compito è tenere separate le persone. C'è certe persone specifiche che non devono mai incontrarsi, perché se quel contabile incontra, quel commercialista incontra, mi sembrava di iniziare a fare un po' sta cosa qua, però ho il campo libero, nessuno lo sta facendo, perché generalmente i promotori finanziari sono dei competitor, comunque, sono dei concorrenti. Allora ho detto, aspetta un attimo, c'è un qualcosa che nessuno sta facendo, posso creare un contenitore vuoto, nel senso che non faccio niente, io creo un vuoto e si riempie in automatico, un po' con la legge fisica, e vado a fare, diciamo così, storytelling di chi fa story making. Questi sono i tre principi base del circolo di innovazione che ho portato avanti. Io ho detto, magari proviamo, anziché innovazione, finanza, e in effetti ho iniziato a percepirmi come un goleman che cresce la gamba dell'innovazione, a dire, aspetta, c'è un'altra gambetta qua, Torino. Che sta uscendo? Che sta uscendo, che è l'innovazione, cioè gli investimenti, perché a Torino sulla finanza abbiamo un sacco di roba. Io ero partito col tema dell'innovazione a Torino perché è come avere una miniera d'oro, un museo enorme, però senza visitatori, senza raccontare le cose e così via. Adesso negli ultimi due o tre anni questa cosa è cambiata, finalmente sento tante iniziative sull'innovazione, eccetera, eccetera. Io mi ricordo proprio i primi passi che facevo, ero solo, cioè io camminavo nei co-working, silenzio. Sì, sì. Proprio zero e io ero magari uno dei cinque, sei pochi che non erano addetti ai lavori, erano un appassionato, un curioso che andava e diceva, ciao, sono andato da Talent Garden, conosci le OGR, conosci Open Inche? No, cos'è? Come cos'è? E così via. Allora ho iniziato a portare un po' questo approccio qua. Poi abbiamo scelto una data un po' simbolica, cioè l'11 settembre 2020, per dar vita a questo fumitato, quindi è una struttura associativa un po' complicata perché abbiamo detto, partendo da Farinetti, cioè cercarci un riferimento simpatico che a me non è stato simpatico, però lui cosa fa? Cosa dice? Copiare. Qualcosa si può fare? Copiare da chi di swing è potente. Bene, chi è il più potente a Torino? John Elkan o la famiglia Agnelli? Beh, copiamo da loro. Loro cosa hanno? Una serie di strutture aziendali, una serie di holding o associazioni o fondazioni o quello che sia, cerchiamo di prendere esempio e quindi ho dato vita alla mia holding. In questo caso io avevo pochi soldi, quindi associativa, ho fatto un'associazione che è una holding di progetti, di iniziative. Per fare cosa? Per aggregare persone, contenuti. Io adesso, prima dicevo sui temi di cultura e innovazione, adesso tolgo il tema di innovazione e cultura e dico... E poi investimento. Ma sì, però è ancora una roba da costruire, ancora una cosa. Un po' da capire. Sicuramente quello che mi incuriosisce è il tema del fare qualcosa che nessuno sta facendo. Quindi sento un po' la frizzantezza di questo... E metterla anche a disposizione di terzi, credo. Metterla a disposizione di terzi, sì, assolutamente. Come il ciclo di innovazione l'abbiamo orientato a un progetto di beneficenza a cui, diciamo, impegnarci, che è una scuola superiore, i ragazzi di B-Pitcher Learning. Analogamente, come dato fiato, nasce dall'idea di dire andiamo a fare dei seminari, delle testimonianze, raccontare qualcosa alle scuole superiori o comunque a un target ipotetico perché prima magari è un po' difficile comunque spiegare i mercati, ma comunque ai ragazzi. Anche perché è una bella scusa, perché se io dico... Io parlo a un ragazzo di... Io in realtà dovrei parlare a un ragazzo di otto anni per farmi capire da uno di quindici e così via. Tutti parlano facile e tutti ci capiamo, tra virgolette. Poi in questa fase, che ne so, da un lato ho scoperto, non lo sapevo, in Torino abbiamo l'associazione ABI, che è l'ente bancario italiana. Non posso andare lì a cazzeggiare, non posso fare con te o con gli altri amici. Al contempo, per adesso, mi ha detto, ma iniziamo a fare un giro di, come dire, di video, di comunicare tra di noi, persone che hanno l'approccio della mamma che cazzo me ne frega, cioè mi voglio divertire, voglio individuare qualcuno. E se riusciamo a inventarci qualcosa di figo, magari poi viene fuori un club degli investitori. non lo so, oppure no, rimane niente. No, perché ti dico, per come sto interpretando io e quello che mi trasmettete, c'è veramente questo, ma che cazzo me ne fotte, che poi è un bene. Che bellissimo. Perché se tu ragioni solo nel dire, vabbè, io incontro te perché devo guadagnare su di te, non è più, ma a me che cazzo me ne fotte, cioè io vivo di altra roba, poi incontro te, ho questa passione, tu hai questa passione, la condividiamo, io magari un po' di esperienza in più e quindi ti posso suggerire qualcosa che è completamente diverso da quello che tu ti sei sentito dire da trent'anni, ogni volta che sei andato in banca, ogni volta che sei andato dal tuo consulente finanziario. Sì, sì, per adesso abbiamo messo nel gruppo solo trader, o comunque tu fa operazioni. Anche Freddi, l'ultimo entrato, magari è l'esempio di più piccolo, tra virgolette, oppure c'è un altro che gira con due o tre milioni di trading, c'è pesante, no? Però le persone hanno l'approccio, cazzo me ne frega, e già solo su questo io vedo che nel gruppo Whatsapp c'è una condivisione di po' e bassa, non abbiamo tanta frequenza, no? Però prospettive completamente diverse, tipo, stavamo mai pensato, oppure, aspetta, quella me l'ero persa, perché ognuno ha una propria visione molto, molto diversa. Certo, certo, ma io ad esempio alcuni suggerimenti li ho colti anche consigliando, come ben sai, alcuni titoli ai miei clienti, no? Fantastico! Abbiamo gioito una sera e poi dopo è finita lì. Vabbè, però, insomma, finita lì nel senso, avete gioito perché ci avete guadagnato. Sì, sì, certo, certo. Adesso siamo un po' tornati di nuovo indietro, ma vabbè, fa parte del gioco. Sì, no, ma tanto, allora, perché non avete chiuso la posizione in quel caso? No, esatto. No, ma anch'io sono long ancora su quello, sono assolutamente confidente che, c'è un processo in corte, se vuoi, certo, bellissimo. Quindi, prima cosa quella, seconda cosa, secondo me, se noi ci divertiamo, condividiamo robe, si nasce fiducia e così via, è una serie, cioè, ci esponiamo a un qualche serendipity di sicuro. Non so ancora quale, ma staremo a vedere. Va bene. Quando torni in Italia? Il 31-12, volo proprio a Capodanno, così entro nel 2022 volando e tornando a casa. Quindi anche... Però vieni avanti con le ore, quindi mi raccomando. Sì, è un viaggio nel tempo, praticamente. Ah, sì. Ah, mi sono dimostrato, ho appena fatto partire anche l'iniziativa Osservatorio Agnelli. Nel senso che noi siamo a Torino, ma tantissima gente, io sono iper appassionato, oltre che di finanzi della famiglia Agnelli proprio, no? Ma io vado in giro e la gente non sa un cazzo. Dai, allora ho pensato appunto, un osservatorio sulla famiglia Agnelli, il fiato talk, questo, un qualcosa adesso, combinazione è venuto spontaneamente, l'analisi orbitale, c'è un approfondimento su sta roba lì, perché potrebbe essere una roba molto figa. Siamo andati all'università a fare una prima intervista, un seminario, scusami. E poi il resto stiamo a vedere, ci costruiamo un sito magari con i nomi, le facce, così ci conosciamo anche, oppure no. No, no, guarda, l'ultima roba che ti dico mentalmente, adesso abbiamo un fondo di investimento di Londra, che si è interessato a questa roba, tra il circolo di informazione e il comitato fiato, soprattutto l'analisi orbitale, e mi ha detto, noi cerchiamo di investire in startup. Ok, noi in effetti in circolazione abbiamo tanta gente che ci chiede, che ci propone, magari uniamo un po' le due gambe del goal, ma non lo so, te l'ho condivido. Bello, bello. Bello, bello. Bello, bello. Grazie.